Lascia la moglie e due figli piccoli, Giuseppe Galbano, il carrozziere di Ribera di 44 anni, morto ieri pomeriggio schiacciato al pesante cancello di ferro che stava cercando di riparare una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa del Rosario di Cattolica Heraclea, i funerali di Liborio Campione, il senza tetto morto venerdì nell'incendio nel capannone della nettezza urbana dove l'uomo abitava insieme a suo cane. Aziende ittico-conserviere nel Mirino dei Ladri a Sciacca sono due le aziende situate in località Santa Maria, derubata nelle settimane scorse. Un'emergenza criminalità che non risparmia nemmeno le attività produttive più importanti del territorio. Dire che il carnevale è una festa paesana è un'affermazione infelice e denigratoria, così l'aggiunta di Paola replica le dichiarazioni di Mangia che dopo la vicenda della cittadinanza onorale a Roccoforte, ormai è un'aperta polemica col comune. I gennoti problemi a San Giorgio sono peggiorati con il recente nubifragio, località isolata, strade che non esistono più, abitazioni irraggiungibili, protestano i residenti. Tutto questo accade perché questa zona è abbandonata da anni. E intanto sono al lavoro da stamattina al Canzalamone eventi forestali messi a disposizione al comune di Sciacca per ripulire dal fango e dai detriti le strade dopo l'allusione dello scorso 25 novembre. Diversi gli altri interventi in programma. Un cordiale saluto e benvenuti su Tele Montecronio per un nuovo appuntamento con l'informazione. Oggi la cronaca in apertura. La città di Ribera si sta stringendo attorno ai familiari di Giuseppe Galvano. Il carrozziere di 44 anni che è morto schiacciato dal pesante cancello in ferro che stava cercando di riparare. Lascia la moglie e due bambini. Sentiamo. Una tragedia che si è consumata in pochi minuti. Ieri pomeriggio, poco dopo le 15, è deceduto sul colpo Giuseppe Galvano, 44 anni, carrozziere di Ribera, schiacciato dal peso del cancello in ferro che stava cercando di sistemare in contrada gulfa sulla provinciale per Montallegro e Cattolica Eraclea. L'uomo stava cercando di sostituire le rotelle del pesante cancello. Si parla di 500 kg che delimita la proprietà all'interno della quale si trova la sua officina perché pare che avesse dato dei problemi a seguito del violento nubifraggio del 25 novembre scorso. Ieri pomeriggio, Galvano aveva deciso di effettuare l'intervento di manutenzione del cancello, l'arco circa 4 metri, alto 2 metri, che però è uscito dal binario e lo ha schiacciato. Sarebbe questa la ricostruzione di quanto è accaduto fatta dagli inquirenti perché l'uomo, al momento in cui si è verificato l'incidente, era da solo in contrada gulfa. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della tenenza di Ribera, un'ambulanza del 118, ma per lo sfortunato operaio non c'era nulla da fare. Nessun accertamento sul suo corpo è stato disposto dalla procura della Repubblica di Sciacca e già in serata la salma è stata consegnata ai familiari. Giuseppe Galvano lascia la moglie e due bambini di 5 e 8 anni. La notizia della sua morte anche per le circostanze in cui è avvenuta sconvolto la città di Ribera dove l'uomo era conosciuto e stimato anche per la professione che svolgeva. Una giovane vita stroncata da un incidente assurdo. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 e 30 nella Chiesa Madre. Si sono svolti ieri pomeriggio nella Chiesa del Rosario di Cattolica Eraclea i funerali di Liborio Campione, il senza tetto morto nell'incendio al capannone deposito della nettezza urbana. Accanto al ferretro c'era anche il suo amato cane. Massimo D'Antoni. C'era anche il cane Zuzurro ieri pomeriggio accanto al ferretro di Liborio Campione durante i funerali nella Chiesa del Rosario di Cattolica Eraclea. La comunità cattolicese ha partecipato alle esequie dell'indigente morto nell'incendio di venerdì scorso del capannone deposito della nettezza urbana. Quel cane che era il migliore amico di Liborio da lui portato in salvo, nei suoi occhi la conferma che anche gli animali nutrono sentimenti, commosse le parole dell'arciprete Don Nino Gerraputo durante la sua omelia. Bisogna preoccuparsi quando la coscienza si anestetizza e non fa più caso al fratello che ci soffre accanto o ai problemi sedi del mondo che diventano solo ritornelli già sentiti nelle scalette dei telegiornali o frasi da mettere nei sociali. Oggi, cari fratelli e sorelle, se non ci sintonizziamo sulla lunghezza d'onda di Dio, a guardare quello che guarda Lui, Egli non si ferma alle apparenze, ma rivolge lo sguardo sull'umile e su chi ha lo spirito comprito sui tanti poveri lazani di oggi. È un sintomo di sclerosi spirituale quando l'interesse si concentra sulle cose da produrre invece che sulle persone da amare. Così nasce tra la tragica contraddizione dei nostri temi. Così è molto riboglio. Quanto più aumenta il progresso e la possibilità di che è un bene, tanto più vivono e tanto più sono coloro che non possono accedergli al progresso e alla possibilità di vivere. Intanto proseguono le indagini per risalire alle cause certe dell'incendio. Pare che si insista nella pista del malfunzionamento della stufa elettrica, ma il fascicolo d'indagine aperto dalla Procura della Repubblica di Egrigento ipotizza l'omicidio colposo, soprattutto perché Liborio non aveva alcun titolo per abitare nell'alloggio custode di quel capannone, evidentemente insicuro e dalle discutibili condizioni igienico-sanitarie. Carabinieri che hanno acquisito documenti e che continuano a svolgere i propri accertamenti. Ancora cronaca, aziende etico-conserviere nel mirino dei ladri a Sciacca. Sono due gli episodi che si sono verificati nei giorni scorsi e sui quali indagano gli agenti della Polizia di Stato. Entrambi gli stabilimenti si trovano ubicati in località Santa Maria. Sono al vaglio degli investigatori le immagini registrate dai sistemi interni di video sorveglianza. L'ultimo episodio dei primi di dicembre rivela un sistema organizzato con almeno sei malviventi i quali con un mezzo pesante sono riusciti ad introdursi dentro l'opificio riuscendo a caricare con l'aiuto del muletto dell'azienda finita nel mirino alcune pedane di prodotto per poi darsi alla fuga. Un danno di almeno 90.000 euro quello denunciato dall'azienda. Qualche giorno prima un altro episodio simile si era verificato a danno di un altro stabilimento. Vicende che rilanciano l'emergenza criminalità che da tempo non risparmia le attività produttive. Dichiarare che il Carnevale di Sciacca è una festa paesana è un'affermazione infelice e dal tono denigratorio. L'amministrazione comunale reagisce con vehemenza alle esternazioni del patron di aereoviaggi e invita Antonio Mangia ad essere più accorto in futuro anche per evitare di dare la stura a quelle che vengono definite le solite polemiche dell'opposizione. Insomma, rapporti sempre più tesi tra l'aggiunta di Paola e l'imprenditore Mangia. Maria Genuarti. Tra Antonio Mangia e l'amministrazione di Paola non c'è mai stato grande feeling. Rapporti formali e in determinati momenti anche tesi. Il precedente, ancora piuttosto recente, risale al mese di settembre quando, a seguito della cittadinanza onoraria conferita a San Roccoforte, il patron di aeroviaggio aveva candidamente ammesso di esserci rimasto male per non essere mai stato preso in considerazione dell'aggiunta municipale. Fa parte del carattere di Mangia non usare mezzi termini, ma nelle sue recenti esternazioni sul Carnevale di Sciacca, definito come festa paesana che non porta turisti e che di conseguenza non giustifica l'investimento di 350 mila euro provenienti dall'imposta di soggiorno, un certo peso avranno avuto probabilmente anche le relazioni non certamente idilliache con gli amministratori saccensi, i quali non ci stanno ad incassare rimanendo in silenzio. Anzi, per l'aggiunta guidata da Fabrizio Di Paola, quella di Mangia è stata un'affermazione infelice e dal tono denigratorio. Dichiarazioni che non ci aspettavamo e che ci hanno amareggiato, scrive il sindaco, e che ci portano a chiedere quali motivazioni abbiano potuto spingere un imprenditore a rilasciare alla stampa un'esternazione che tocca il sentimento di un popolo. Definire il Carnevale una festa paesana offende e infastidisce chi alla manifestazione è legato, si legge ancora nel comunicato stampa dell'amministrazione, ragion per cui è un'affermazione che non può essere accettata ancorché proveniente da un imprenditore del quale si ha grande rispetto. L'evento Carnevale, dicara ancora l'amministrazione, oltre ad avere una lunga storia e produrre un ritorno di immagine consente anche di muovere una sua economia a beneficio di diversi settori come quello ricettivo e della ristorazione in un periodo dell'anno altrimenti improduttivo. Amministrazione che respinge al mittente anche la critica relativa ai fondi destinati alla festa perché quantificati in eccesso rispetto alla reale previsione di spesa. Giunta di Paola che poi manda un messaggio al presidente di Aeroviaggi auspicando che in futuro risparmi i giudizi del genere sia più accorto anche per evitare di dare la stura a quelle che vengono definite le solite polemiche dell'opposizione. Hanno strumentalmente sostenuto e cavalcato le dichiarazioni di Mangia, sostiene la giunta di Paola, per il semplice gusto di fare polemica perché probabilmente non hanno ancora digerito il fatto che in questi anni abbiamo resuscitato un evento che la precedente amministrazione aveva fatto morire. Futili polemiche e futili critiche per la giunta di Paola, anche quelle mosse dall'opposizione sulla recente accensione dell'albero di Natale in piazza. Nessuna passerella, Monsemplice ha sentito gesto di riconoscenza, concluse il sindaco, nei confronti di chi ha voluto donare alla città un simbolo attorno al quale unirsi. E per i consiglieri Mario Turturici e Salvatore Monteleone, il sindaco sbaglia di innescare una polemica con il patron di Aeroviaggi Antonio Mangia, le cui strutture alberghiere danno lavoro a centinaia di famiglie, assicurano preziose entrate al comune di Sciacca. Non è il solo ad avere contestato in questi anni l'utilizzo dei proventi dell'imposta di soggiorno, lo abbiamo fatto anche noi, ricordano Turturici e Monteleone, non condividendo l'impiego di parte delle risorse per la ZTL, ad esempio a fronte di risorse esigue destinate invece ad altre manifestazioni. I due consiglieri citano anche il Natale 2016, per la prima volta non ci saranno le luminarie e tutto ciò, dichiarano, non può essere mascherato con false giustificazioni legate al nubifragio. Una località isolata, strade che non esistono più, impossibile raggiungere le abitazioni diventate negli ultimi giorni anche facile preda di ladri e vandali. E' il dipinto della contrada a San Giorgio, a quasi un mese di stanza dal nubifragio che ha portato via tutto. Residenti, comitato di quartiere e titolari delle attività commerciali temono che la situazione resti così per chissà quanto tempo. E c'è lo sfogo del presidente dell'associazione Pro San Giorgio, Raffaella Osso. Tutto questo è successo perché da 40 anni la contrada è stata completamente abbandonata dalle istituzioni. Per noi oggi Noemi Tugnolo. Questo è invece ciò che rimane di una delle principali strade della contrada, arteria di collegamento tra la statale 115 e la località balneare. Strade completamente sventrate, impossibile transitare con le auto, residenti che non possono più nemmeno raggiungere le proprie abitazioni. Sono queste le condizioni in cui versa la contrada a San Giorgio dopo il nubifragio dello scorso 25 novembre. Al danno negli ultimi giorni si è aggiunta anche la beffa. Tanti furti messi a segno all'interno delle abitazioni. E c'è rabbia tra i residenti. Oggi a tornare a lanciare l'allarme sulle condizioni in cui versa la zona è Raffaella Osso, presidente dell'associazione Pro San Giorgio. Non è possibile camminare sia a piedi che naturalmente con la macchina. Si sono create delle voraggini, anche a volte di grande profondità, per cui è impossibile poter effettuare il transito con le auto. Purtroppo devo dire che in questo contesto di abbandono delle abitazioni è subentrato un fenomeno veramente preoccupante. Ci sono stati infatti diversi atti vandalici, ci sono stati dei furti, intere abitazioni di vie tipo la via Gerone II, la via Euno, sono state così oggette di furto. Ciò che è successo dopo il nubifraggio delle settimane scorse per i residenti è anche la naturale conseguenza dello stato di abbandono in cui la località San Giorgio versa ormai da tantissimi anni. Se negli anni fossero state realizzate le opere a salvaguardia della zona, il disastro del 25 novembre scorso si sarebbe potuto evitare o in ogni caso avrebbe potuto avere conseguenze meno gravi di quelle che invece ha provocato l'alluvione. Io devo dire con grande rammarico che mi giungono voci che questo dissesto non sia dovuto al nubifraggio solo perché già da tempo ci siamo lamentati dello stato di grande dissesto però dal grande dissesto precedente a quello attuale c'è una grande differenza. Praticamente il dissesto, cioè quello che oggi vediamo non è altro che la conseguenza di un quarantennio di zona in stato di abbandono perché le amministrazioni, sia le precedenti che quelle attuali, non hanno mai fatto nulla per San Giorgio. purtroppo, a me dispiace dirlo, ma facilmente ci si trincera dietro qualcosa che a noi fa tanto male il fatto che le strade siano privatizzate e il comune non può fare nulla. Io non accetto, tutti quelli di San Giorgio non accettano che si dica questo della nostra zona perché noi non abbiamo chiuso le strade noi non possiamo farlo perché saremmo passibili di denuncia tutta la gente dell'Interland molta gente di Sciacca viene qui a usufruire della nostra spiaggia quindi che non si dica che sono strade private lo sarebbero se noi usassimo catene e quant'altro per limitare il traffico. Comitato di quartiere che chiede aiuto a tutte le istituzioni e autorità competenti A voce alta noi chiediamo aiuto al comune, alla regione e allo Stato perché solamente delle forze di concerto possono recuperare una zona che è tanto bella e che alletta dal punto di vista economico e turistico. Danni ingenti anche alle attività commerciali della zona questo stabilimento balneare è rimasto in piedi sol perché la furia dell'acqua quel giorno è riuscita a trovare un barco sotto la struttura in legno ma attorno allo stabilimento non esiste più nulla l'acqua ha distrutto e inghiottito tutto e in assenza di interventi sarà impossibile avviare la prossima stagione estiva. Un po' ci viene la preoccupazione perché vedendo i tempi che impiegano per attivarsi per sistemare piccole cose e qua il lavoro è grande, grosso quindi siamo un pochettino preoccupati per la situazione in cui versiamo e per la stagione futura già il tempo c'è se si inizia a intervenire se si inizia a vedere qualcosa ma a oggi, a quasi un mese, non si è mosso niente quindi siamo preoccupatissimi. Il fango, i detriti e i canneti trasportati dal torrente Can Salamone durante la piena dello scorso 25 novembre sono ancora presenti e transennati presso Gaie di Garaffe tutta l'aria infatti si presenta ancora sporca ci auguriamo che siano rimossi prima del ritorno del maltempo all'auspicio dei soci del circolo nautico il corallo di Sciacca. Sentiamo. Sono passate già due settimane e mezzo dalla tragica alluvione che ha colpito Sciacca eppure il fango, i detriti, i canneti trasportati dalla furia del torrente Can Salamone ingrossato quel giorno dalle piogge fanno ancora bella mostra di sé presso Gaie di Garaffe. A lamentarsi e a segnalare il disagio alla nostra redazione sono oggi soprattutto i soci del circolo nautico il corallo di Sciacca e della Lega Navale che hanno le loro sedi a pochi metri di distanza. Abbiamo rimosso quanto possibile nello spazio antistante le nostre sedi adesso occorre l'intervento dei mezzi specializzati dichiara Franco Galluzzo presidente del circolo Mimmo Marchica Come si può evincere dalle nostre immagini tutti i detriti recuperati in zona sono stati raccolti e opportunamente transennati ma da allora non sono stati tuttora rimossi tant'è vero che tutta l'aria si presenta ancora sporca piena di creta, fango e polvere un disagio notevole sia per le attività legate al diporto sia per coloro che transitano nei paraggi con i loro veicoli sia per tutti quei numerosi visitatori che sono soliti passeggiare da quelle parti inoltre persiste il timore da parte dei residenti che nuove forti piogge possano aggravare la situazione o fare in modo che il fango transennato si disperda nuovamente lungo la superficie l'auspicio insomma è quello che questi residui possano essere rimossi il prima possibile e comunque prima dell'eventuale ritorno del maltempo e che Gaia di Garaffe possa essere ripulita bene e per intero con i mezzi specializzati Sono al lavoro da stamattina al Canza Lamone eventi forestali messi a disposizione dal comune di Sciacca per ripulire dal fango e dai detriti le strade dopo il nubifragio del 25 novembre scorso da stamattina all'opera anche uomini e un mezzo meccanico dell'ESA lente sviluppo agricolo i forestali nei prossimi giorni intanto si sposteranno nelle zone rurali a destra della città da quarti Santa Domenica a Verdura da dove continuano ad arrivare richieste di intervento Dopo Poiotabasi i venti forestali a disposizione del comune di Sciacca dalla scorsa settimana per pulire dal fango le strade rurali dopo il maltempo del 25 novembre stamattina hanno iniziato a lavorare lungo il Canza Lamone lì il torrente ha trascinato di tutto e lungo il ciglio dello scorrimento veloce che collega la statale 115 con il porto c'è ancora di tutto siamo stati al Canza Lamone per sentire gli operai al lavoro Abbiamo trovato di tutto qua c'è Canne, c'è Monnizia c'è tutto e ci stiamo regati qua per pulire questo poi dobbiamo andare pure alla stazione pure che c'è un mare per denna I tempi di questo lavoro qui quanti tempi ci potrebbe volere? Non lo sappiamo ancora i tempi quanto ci vuole per finire Continuate a lavorare a mano non avete il supporto dei mezzi? Sì, continuiamo a lavorare a mano abbiamo qualche attrezzo dice che domani l'assessore Caracappa ci darà un mezzo per trasportare tutta questa Monnizia Invece giù allo stazione c'è un'altra squadra che da stamattina sta lavorando? Sì, ci ho portato già quattro persone per pulire il gioco dei bambini Lì che tipo di esigenze ci sono? No, esigenze c'è fango soltanto tutto fango e Monnizia bicchiere, bottiglie oltre al Canzalamonia la squadra all'opera allo stazione da stamattina con qualche giorno di ritardo rispetto alle attese lavorano anche quattro operai dell'ente sviluppo agricolo con l'ausilio del mezzo meccanico il primo intervento in programma è sempre in contrada poi Otabasi per ripulire la strada principale da tutto il fango venuto giù dai fondi attigui intervento possibile solo con un mezzo meccanico intanto a Palazzo di Città si sta espletando l'iter di assegnazione dei lavori ad una ditta Sacenze che dovrà intervenire a spese del comune per sistemare e consentire il passaggio agli agricoltori in contrada Nadore nei prossimi giorni gli operai della forestale si sposteranno nella zona est della città tra le contrade interessate dagli interventi ci saranno quarti Santa Domenica Bonfiglio e Verdura ma non si fermano in questi giorni afferma l'assessore all'agricoltura Silvio Caracappa le richieste dalle zone rurali per liberare le strade e consentire l'accesso degli agricoltori ai fondi proprio in questo senso stamattina l'amministrazione ha inoltrato una richiesta al consorzio di bonifica Grigento 3 per un ulteriore supporto di mezzi e uomini rispetto alle squadre già al lavoro e domattina conclude l'assessore Caracappa al comune arriveranno i tecnici della protezione civile regionale per un'altra stima e verifica dei danni nelle zone rurali seduta consigliere di question time ieri pomeriggio al consiglio comunale di Sciacca niente diretta televisiva come noto il comune non è in grado di affrontare questa spesa questione questa che ha indotto i consiglieri di opposizione a chiedere la decadenza degli atti ispettivi all'ordine del giorno un problema quello della mancanza della diretta televisiva che oggi induce il consigliere Simone Di Paola a parlare di mancata applicazione del concetto di trasparenza i consiglieri comunali stante questa situazione hanno chiesto di trasformare le interrogazioni molte delle quali datate da risposta orale a risposta scritta intanto il consiglio comunale convocato per domani sera all'ordine del giorno c'è il piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali e la determinazione del prezzo delle aree pubbliche mancata depurazione delle acque refluo e la Sicilia ha un alto record negativo quello di avere ben 51 comuni non in regola non è messa bene la provincia di Agrigento dove sono 7 i comuni che continuano a scaricare in mare lo denuncia oggi l'associazione Mare Amico che cita anche i casi di Sciacca Menfi e Ribera sentiamo record negativo per la Sicilia nella depurazione delle acque refluo e la provincia di Agrigento non fa purtroppo eccezione lo denuncia oggi l'associazione Mare Amico presieduta da Claudio Lombardo è un problema di tutta Italia infatti dal rapporto che viene fuori dalla comunità europea 80 sono gli agglomerati urbani fuori legge in tutta Italia ma la cosa gravissima è che 51 di questi sono in Sicilia quasi due terzi degli agglomerati fuori legge li abbiamo in Sicilia anche la provincia di Agrigento ovviamente non si fa mancare nulla oltre che il capologo di provincia Agrigento ci sono problemi a Palma di Montechiaro a Menfi a Porta Empedocle a Ribera a Sciacca e a Favara tutte queste zone scaricano in mare compresa Favara che non ha lo sbocco naturale in mare ma il suo fiume arriva nel Lido Cannatello attraverso il fiume Naro quindi un problema gravissimo ma ciò che ecco perché noi abbiamo oggi alzato la voce ciò che è ancora più grave è che si parla di tutto ma non si parla di questo cioè pochi cittadini sanno per esempio che ci sta arrivando una multa di 70 milioni di euro in tutta Italia e che per ogni giorno di ritardo per mancata depurazione in Italia i comuni pagano 347 mila euro al giorno per mancata depurazione Tra i comuni fuori legge come vengono definiti da Maria Mico ci sono Ribera Menfi e Sciacca Cantanamone per fare un esempio di Sciacca Cantanamone ha dei problemi la Leosalus ci sono dei problemi anche a Sciacca anche in presenza di depuratori le faccio un esempio da Agrigento noi abbiamo ben quattro depuratori ma due di questi sono stati sequestrati il depuratore del villaggio Mosè è clamoroso le cui acque il 90% bypassano il depuratore arrivano in mare non depurate per inciso in questo tratto dal passaggio al depuratore al mare qualcuno capta queste acque per l'irrigazione degli ortaggi e quindi un disastro Maria Mico denuncia poi l'immobilismo che si registra su questo importante problema di natura ambientale al danno delle multe c'è pure la beffa cioè i soldi ci sono sono posteggiati nella regione siciliana nella gran parte dei casi c'è una delibera cipe che addirittura la scorsa settimana è stata registrata dalla Corte dei Coni cioè i soldi ci sono e noi paghiamo le multe e abbiamo il mare inguinato incredibile adesso un avviso ai nostri telespettatori a causa di una interruzione dell'energia elettrica probabilmente domani il nostro telegiornale non andrà in onda potrete ugualmente seguire le nostre notizie collegandovi sul nostro sito www.rmk.it oppure sulla nostra pagina facebook RMK Sciacca è stato inaugurato stamattina l'ITC Don Michele Arena di Sciacca lo sportello provinciale autismo un servizio che si inquadra nell'ambito dell'inclusione degli studenti affetti da questa patologia vediamo i recenti eventi politici romani hanno impedito all'ormai ex sottosegretario Davide Faraone di essere presente stamattina all'inaugurazione all'ITC Don Michele Arena di Sciacca dello sportello provinciale autismo la scuola diretta da Gabriella Bruccoleri è stata scelta per ospitare il servizio è una realtà fortemente voluta dal governo Renzi e dal sottosegretario Faraone che ha investito tutte le sue energie per dotare dotare le singole province le 101 province sedi di CTS questo servizio alle famiglie e ai bambini e lo sportello autismo è un servizio statico e dinamico nello stesso tempo statico perché si riferisce fisicamente alla sede alla sede di una scuola in questo caso ad Agrigento la nostra l'ISS Arena di Sciacca nello stesso tempo è dinamico perché lo sportello offre il suo servizio e la sua consulenza alle scuole che ne faranno richiesta direttamente nelle sedi CTS cosa vuol dire? Centro Territoriale per il Supporto all'Handicap è una realtà estremamente importante perché dota le scuole di tutta la provincia di consulenza formazione servizi per l'integrazione e l'inclusione oggi lo sportello provinciale autismo di Sciacca è stato inaugurato nell'ambito di una manifestazione alla quale ha preso parte anche una rappresentanza di alunni della scuola elementare l'obiettivo finale si inquadra nell'ambito della sensibilizzazione sul tema della consapevolezza del principio dell'inclusione l'inclusione è l'aspetto centrale del progetto e del processo educativo noi agiamo per includere includere alunni famiglie genitori docenti in particolare l'inclusione si rivolge ai ragazzi diversamente abili pertanto la scuola struttura il suo progetto intanto curricularmente per accogliere nel migliore dei modi e funzionalmente alla garanzia di una crescita diciamo nell'apprendimento agli alunni portatori di handicap poi è chiaro che si strutturano percorsi adatti alle singole specificità nelle diverse sedi in particolare come CTS come CTRH aiutiamo le altre scuole con progetti di formazione con consulenza offrendo poi anche aiuto economico per acquistare per le scuole incomodato d'uso tecnologia il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta interviene riguardo la nomina all'interno della squadra di governo di due ministri siciliani Anna Finocchiaro dice Crocetta potrà sicuramente contribuire con la sua competenza e con sua capacità di dialogo a migliorare il quadro dei rapporti tra governo e Parlamento e Angelino Alfano che dopo l'esperienza consolidata all'interno dei ministeri dell'interno e della giustizia potrà portare la sua competenza a livello internazionale con il prestigioso incarico di ministro degli esteri Ribera le famiglie con a carico di sabili o anziani non autosufficienti possono recarsi alla tesoreria del comune Crispino per riscuotere il buono sociosanitario relativo all'anno 2016 l'impegno dell'amministrazione comunale afferma il vice sindaco Alessandro Dinghile anche quest'anno si concretizza adesso vediamo il libro che ci consiglia oggi la libreria Mondadori La vita di London in New York non sta andando esattamente come aveva immaginato e il suo cuore è più confuso che mai in balia di Dakota la sua fidanzata di sempre e Nora una sua nuova amica perché Dakota è tutto ciò che London ha sempre voluto il suo primo unico amore Nora sfuggente e intrigante Nora è una specie di enigma con lei London ha la costante sensazione di trovarsi davanti a un mistero difficile da svelare all'apparenza mondi opposti Nora e Dakota hanno però più cose in comune di quelle che vorrebbero ed entrambe sono determinate a conquistare il cuore di London ma quanti ostacoli è disposto a superare lui per trovare il proprio amore infinito dall'autrice di After Anna Todd Cuori confusi Nothing More edito Sperling e Cufer arte e cultura Giuseppe Ciaccio sacenze autodidatta e tra gli artisti selezionati dal critico d'arte Vittorio Sgarbi per il suo ultimo libro dal titolo italiani dalla figurazione al concettuale una raccolta di arte contemporanea che verrà presto distribuita in musei gallerie pubbliche private e biblioteche a Giuseppe Ciaccio dedicata alla pagina 161 con l'opera dal titolo Flowers un acrilico su tela l'artista sacenze già conosciuto in America e in Francia ha infatti esposto ad Hollywood New York Washington e Parigi era l'ultima notizia siamo in chiusura grazie per averci seguito fino a qui appuntamento come sempre alle prossime edizioni arrivederci a la Grazie.